E' una squadra forte e unita, quella dell'Università degli Studi di Teramo, che ha fronteggiato con coraggio e determinazione un 2020 terribile. Le iscrizioni sono aumentate del 4,5% e il totale degli iscritti potrebbe sfiorare i 2.000 studenti. Nel bilancio di fine anno dell'Ateneo Teramano ci sono momenti indimenticabili, come la visita per la prima volta di un Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha inaugurato proprio questo anno accademico. La partecipazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, a due eventi, ma anche il premio nazionale Smartphone d'Oro, vinto per la comunicazione istituzionale. E' stato un anno difficile, però ci ha messo alla prova e devo dire che l'Università di Teramo, siamo alla fine di questo anno sorribili, è riuscita a difendersi bene. Lo dicono i numeri, lo dicono i risultati, ma lo dice soprattutto la determinazione che abbiamo dimostrato tutti, docenti, personale, studenti. Io pensavo che il video di fine anno di quest'anno sarebbe stato povero. Abbiamo fatto fatica a far stare tutto nei soliti 10 minuti. Come si ricomincia? A gennaio torneremo a fare gli esami in presenza, speriamo il primo marzo di riniziare le lezioni in presenza e quantomeno con le formule miste. Abbiamo tutte le attrezzature per poterlo fare, abbiamo tutti i dispositivi per la sicurezza implementati già lo scorso anno, quindi sono sicuro che ci riusciremo. Intanto il 7 gennaio le lezioni all'Università di Teramo dovrebbero riprendere in presenza. Il magnifico Rettore Mastrocola si dice fiducioso per i mesi a venire e per il futuro dell'Ateneo Teramano, ma non risparmia una dura frecciata alla Regione Abruzzo, che ha scelto un'Università non abruzzese per una convenzione agrosilvopastorale. Ci dispiace che la nostra Regione, per una convenzione sul sistema agrosilvopastorale, abbia deciso di rivolgersi ad una università esterna al sistema universitario regionale, ma molto probabilmente ha ritenuto che erano più bravi di noi. Però, insomma, forse guardare anche alle eccellenze che ci sono a livello di formazione e di ricerca sul territorio non sarebbe sbagliato. Grazie.